Innesimo episodio di teppismo e violenza ieri sera a Ponte San Giovanni, all'interno della stazione ferroviaria, erano circa le 21.30 quando un ferroviere in servizio all'interno della struttura è intervenuto per invitare tre stranieri, presumibilmente magrebini o albanesi, che stavano discutendo animatamente a smetterla e ad allontanarsi. I tre si sono ribellati ed hanno inseguito il ferroviere che, vista la malparata, si è rinchiuso in ufficio e ha telefonato al 112. Gli extracomunitari, infuriati, avrebbero frantumato con dei sassi il vetro della porta dell'ufficio, sono dunque entrati aggredendo il ferroviere che è stato ferito con una coltellata o forse con un pezzo di vetro al ventre. Prima che arrivassero i carabinieri da Perugia, i tre si sono dati alla fuga. Il ferroviere è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove i sanitari lo hanno dichiarato guaribile in pochi giorni. Si diceva degli episodi di violenza che si registrano in questa stazione, per i quali da tempo sono stati annunciati interventi importanti, quali la costruzione del sottopassaggio per accedere ai binari, la ristrutturazione dell'edificio e tutte quelle migliorie necessarie per aumentare i livelli di sicurezza. In attesa di questi lavori, però, è assolutamente necessario che la stazione venga controllata adeguatamente anche nelle ore notturne, questo perché nella notte la stazione è in mano a teppisti, tossicodipendenti e sbandati che provocano danni.